Ciao ragazzi! Sono tornato per un altro video. E in questo video, ti mostrerò come creare un account Reddit. Allora, cosa stai aspettando? Iniziamo! Quindi, prima di tutto, apri il tuo browser. Quindi digitalreddit.com nella barra di ricerca. Ora siamo su Reddit. Quello che devi fare dopo è toccare il menu principale. Come puoi vedere qui sotto, c'è un'opzione. Basta toccare Registrati o Accedi. Ora in basso. Tocca Accedi. Dato che siamo ancora nuovi su Reddit, tocca questo in basso. Ora digita il tuo indirizzo email, quindi tocca in Continua. Qui, creerai il tuo nome utente e password. Come puoi vedere, Reddit ti ha dato un nome utente, state decidere se usarlo o cambiarlo. Ora tocca la casella per confermare che non sei un robot, quindi fai clic su un Continua. Come puoi vedere in fondo, il tuo account è stato creato. Ora puoi scegliere tra le opzioni che ti descrivono, quindi tocca in Continua. Successivamente, puoi scegliere tre argomenti che ritieni interessanti da queste opzioni, quindi fare clic su un Continua. Ecco alcune delle community consigliate da Reddit. Seleziona le comunità secondo la tua scelta toccandoli con Anpune sul lato destro. Al termine, tocca Anpartecipa e fatto. Ed è tutto, hai creato un account Reddit. Spero che il video ti sia piaciuto. Grazie per aver guardato.